guarda che chi sbaglia paga e sta fuori chi non ci vuole stare lo dicesse subito che va via ci saranno degli avvicinamenti oi voglio allora mi interessa qualcosa all'interno dell'organismo ma anche all'interno della struttura perché bisogna che la squadra abbia le stesse di interlocuzioni autorevole cioè nella vita ci serve il bastone e la carota ma serve pure il bastone se le bastonate non vengono date ci alterassi il bastonato la succede un po' a segno aspettate allora il bastonateci solo esclusivamente a Rococcio noi dove diciamo a Rococcio è vicino a Rococcio è vicino a vosso allora voi sono due mesi che siete un po' a segno fatevi vedere un po' di più perché noi possiamo pensare tanti di voi no ma noi abbiamo pensato io sono venuto oggi uomini di franumissi no ma non è un problema io sono venuto qua per risolvere i problemi e soprattutto per creare una struttura che abbia l'indipendenza e l'autorevolezza di incidere ma abbiamo specchiato il giornale per fare la scuola io lo dico io con 65 anni lei è troppo intelligente per non accorgersi questa è la difesa che mi ha cambiato totalmente io lo dico con tutto il culo per il caso il fribbo è il paese però non sai i sacrifici non sai le prezzi caccia o lei si crede che adesso è rossa e a Salerno non facciamo sacrifici noi facciamo dei sacrifici che fanno questa è una difesa io lo dico con tutto il culo è una difesa così scassa che io a 65 anni ce l'è ma lei è quello che stiamo prendendo l'ultima settimana le facevamo quando eravamo ragazzi a 15 anni tuc tac deve cambiare totalmente la difesa 7 giorni su 7 9 giorni su 7 ragazzi i giocatori il fessere non è così 너 morse in alto non è così il giocatore è buono il giocatore è buono il giocatore è buono poi vedremo il giocatore è buono